L'undicesima giornata del campionato categoria C ci regala sicuramente la possibilità di intervistare la vecchia Cerro che a discapito di un inizio di campionato un po' difficile in cui cercavano anche gli uomini sufficienti per mettere insieme la squadra, adesso ha trovato una sua continuità e si sta garantendo un campionato di buon livello. Oggi manifesta grazie a una vittoria contro la Cipicchia la possibilità di consolidare la parte medio-alta della classifica e ci racconta la partita Filippi Giancarlo autore anche di una tripletta. La squadra ha giocato abbastanza bene, abbiamo trovato un riquirizzo in campo diciamo, adesso puntiamo chiaramente con gli scontri diretti che ci rimangono a cercare di centrare l'obiettivo tra i quattro posto. Quindi l'obiettivo della vecchia Cerro in questa serie C è riuscire a raggiungere la possibilità di andare in serie B o volete mantenere una posizione in serie C per garantire una continuità alla squadra? No, noi cerchiamo, punteremo a andare in serie B, visto che comunque ci rimangono due scontri diretti con le nostre squadre, se vinciamo questo ci proviamo. Un auguri allora per raggiungere l'obiettivo a tutta la vecchia Cerro. Grazie a tutti.